Partiamo dal punto che è utile forse per blindare i play-off, anche se c'è ancora da fare qualcosa, però la domanda è sempre la stessa. Un bel Pescara, primo quarto d'ora, un bel Pescara dopo aver subito il gol del pari, nel mezzo un Verona che ha schiacciato i biancazzurri. Io credo che abbiamo giocato contro una grande squadra oggi. Verona ha creato una serie di palle-goal. Fiorillo, il nostro portiere, penso che abbia fatto tre o quattro interventi importanti. Lo sapevamo perché il Verona è stato costruito per vincerlo questo campionato. Però al di là di questo noi facciamo sempre gli stessi errori, perché facciamo il gol e poi pensiamo di poterlo portare fino alla fine. A un certo punto non riuscivamo ad uscire. Poi il mister ha fatto un paio di cambi e alla fine, paradossalmente, al di là del gol che abbiamo preso subito, però con il 3-5-2 abbiamo giocato meglio. Il Verona è anche calato un po' e noi abbiamo avuto due o tre occasioni per poterla vincere. Però credo che sostanzialmente il risultato sia giusto. Contento del punto in chiave play-off? Sì, contento. Per come è andata la partita si poteva fare anche qualcosa in più. Però contento perché un punto contro il Verona, secondo me, è un buon punto, considerando che siamo a tre partite dalla fine. Quindi perlomeno abbiamo la possibilità nelle ultime due di fare due buone gare e magari di mantenere una posizione nei play-off importante. Ricordando che il quinto e il sesto posto permettono di giocare in casa la partita secca. È già una cosa molto importante. Soprattutto due risultati su tre. Sottil e Bettella si stanno confermando ad altissimi livelli. Può essere una risposta a chi li aveva accusato di non aver fatto un bel mercato di gennaio? Ma non deve essere una risposta a nessuno perché purtroppo quando si parla, si parla sempre senza cognizione di causa. Ognuno può dire la sua. Tutti quanti parlano di giocatori, poi non sanno nemmeno dove sono di casa i giocatori. Quindi è inutile rispondere al nulla. Chi vede i giocatori sa che sono giocatori bravi. Sono due ragazzi giovani che stanno facendo molto bene e questa per noi è una soddisfazione. Però non è che dobbiamo rispondere a nessuno perché poi ci sono giocatori che stanno facendo bene, i giocatori che stanno facendo meno bene. Sarebbe una polemica aperta infinita. Noi dobbiamo guardare in casa nostra. Quello che dice la gente rimangono chiacchiere. 9.939 paganti, ne erano poco più di 9.900 con l'Ascoli, quindi diciamo record stagionale. Questa era la curva che voleva vedere sempre il presidente Curva, Stribuna, Stribuna Maiella. Ma io credo che oggi la curva abbia dimostrato che la curva del Pescara così è una curva importante. Una curva importante, una curva che si è fatta sentire tutta la partita, una curva che poi oggi ha ricordato un ragazzo che purtroppo non c'è più. Ed è venuto purtroppo a mancare in un momento bellissimo del Pescara. Quindi ancora di più il ricordo è ancora più importante. Però è chiaro che se vuoi spingere la squadra ci vuole lo stadio pieno. Non possiamo arrivare solo adesso se facciamo i playoff arrivano 12.000-13.000. In altri stadi ci sono sempre, quindi questo si vede. Perché poi il pubblico è il dodicesimo uomo se fa quello che ha fatto oggi. Se no fai fatica. L'ultima, Presidente. In chiave in prospettiva playoff, lei ha detto che il Verona è una squadra forte, abituata, costruita per vincere. Io credo che si possa dire lo stesso del Benevento e anche del Palermo che oggi ha fatto un po' fatica al Livorno. Bisogna giocare contro queste playoff. Vedendo come ha sofferto il Pescara in quella fase centrale di oggi. È solo una questione di atteggiamento oppure c'è un gap tecnico grande? No, no, io credo che sia una questione di atteggiamento. Mi arrabbiato allora ancora una volta? No, no, non sono arrabbiato. Io credo che ci voglia coraggio nella vita, in tutte le cose, nel calcio, nella vita. Il solito discorso? A un certo punto credo che il proprietario del pullman non sia voluto entrare. Perché normalmente parcheggiava pure il pullman davanti alla porta. Ci mancava la polemica, chiediamola così. Sì, è difficile. Va bene, ok, la nota polemica.